eccoci qua eccoci qua con una nuova diretta nuova diretta di parrucchieri revolution poi mi presento per bene prima parliamo della tua bellezza dei tuoi capelli che non ti soddisfano che non sei mai contenta di quello che vedi allo specchio il taglio si è la linea che volevi ma c'è qualcosa che non ti convince del tutto il tuo colore cioè capello bianco non si vede ma non è neanche quel colore che ti esalta e tu non capisci come mai nei cambiati di parrucchieri ma non riesce a capire perché il pacchetto completo non è quello che tu vorresti non è quello che tu desideri adesso mi presento io sono paolo e 35 anni fa circa insieme alla mia socia rosi abbiamo fondato parrucchieri revolution nostro obiettivo rendervi belle questo è il nostro obiettivo rendervi tutte felici orgogliose dei vostri capelli e per riuscire in questo intento abbiamo capito che sono indispensabili le cinque fondamenta della revolution consulenza cute sana che generi un capello sano un capello sano non rovinato da trattamenti chimici precedenti un taglio che esalti la tua bellezza e non sia un taglio casuale è un colore che faccia sempre sempre un complimento al taglio e ai tuoi colori naturali e stasera c'è oggi scusate di solito se con la diretta alla sera oggi mi è toccato quella del mezzogiorno e stavo dicendo il l'argomento di oggi è proprio la consulenza tutto gira intorno alla consulenza perché il taglio che hai non valorizza fino in fondo la tua bellezza perché i tuoi capelli non stanno mai a posto quando li te li fai da sola a casa sei bella solo quando esci dal parrucchiere e per il resto è una guerra continua e quando ti guardi allo specchio non sei soddisfatta di quello che vedi perché il colore non ti esalta tutte queste cose aggrediscono la tua immagine aggrediscono la tua persona la tua naturale bellezza viene offuscata e conseguentemente anche la tua autostima quando avviene tutto questo ti è mai stato fatto una consulenza fermati non ti sto dicendo quella robina che viene fatta magari a posto di lavoro facciamo i capelli un po più chiari guarda questo colore cosa ne dici se sì però se tagliamo qua poi ti vanno fuori in posto no 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 la consulenza che intendo io è una consulenza seria una consulenza che ti faccio un esempio colori per illuminare il tuo viso per mettere in evidenza una parte forte del tuo viso magari gli occhi magari dare luce alla bocca per esempio oppure il taglio ti hanno mai parlato di spostare i volumi in maniera tale che la tua figura resti più slanciata o tutto il contrario togliere volumi dove non vanno perché esteticamente ti creano un danno e soprattutto se il tuo colore sempre magari opaco e un po spento ti hanno mai analizzato il capello o la cute se il tuo capello un capello che soffre perché nasce già sofferente o se un capello che soffre perché ci si è arrivati a farlo soffrire con un eccesso di trattamenti chimici ti hanno mai controllato tutte queste cose ti hanno mai chiesto le tue abitudini quali sono le tue abitudini intendo dire ogni quanto te li lavi con che cosa gli asciughi che genere di lavoro fai che genere di hobby hai questa è una consulenza se non si capisce fino in fondo quella che è la tua esigenza oppure quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza perché tutti ne abbiamo tutti abbiamo qualcosa che è meglio non andare a evidenziare e col taglio col colore si può giocare tanto su tutto questo pacchetto ecco perché alla fine se tu non hai ricevuto tutto questo tu ti guardi allo specchio dici sì il colore bello ma non mi piace sai perché non ti piace perché non piace su di te perché non va bene su di te quel colore o meglio forse avrebbe bisogno di qualche accorgimento in più per renderlo corretto per i tuoi lineamenti questo è il vero segreto per essere belle il principale cioè principale perché il primo perché se non si fa un'analisi corretta di tutto quello che in pochi minuti ti ho appena descritto non puoi sperare di avere un risultato che ti esalti o meglio che esalti la tua bellezza perciò se vivi questo problema e vuoi andarci un pochettino più a fondo ti consiglio di prenotare una consulenza alla revolution 0 3 7 1 8 9 8 9 0 0 questo è il nostro numero di telefono ti ruberemo 20 minuti circa perché tanto dura la nostra consulenza ma lì capirai veramente tante cose noi siamo a san colomano lambro in via cesare battisti al 20 barra 1 ti aspetto a una cosa importante se decidi venirci a trovare questi due te li regaliamo noi uno è il nostro primo libro revolution way la via questo qua c'è scritto tutto quello che riguarda il mondo dei capelli e dei parrucchieri qua ci sono segnati tanti 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 segreti segnati svelati scusate e questo invece è focalizzato sul taglio perché il taglio non viene preso con la seria considerazione che merita e noi ci abbiamo fatto un libro perché per noi taglio è una parte molto 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 importante della tua persona per cui se ci viene trovare questi della rega riga io vi saluto vi auguro una buona giornata e buon appetito e ci vediamo venerdì sera con una nuova diretta ciao a tutti